Le pillole antifasciste sono parte del progetto Zona Democratica che Istituto Cervi ed Ampi hanno attivato per il rinnovo del patrimonio antifascista. Vogliamo con questo raccogliere il pensiero di tante persone sull'attualizzazione dell'antifascismo, attualizzazione che corrisponde a una serie di valori che sono i valori della nostra attività quotidiana e della nostra battaglia quotidiana che sono in favore dei diritti umani e della legalità, della democrazia. Questo è quanto sarà il contenuto del progetto che noi andiamo a presentare.